A tre anni dal grande successo di Londra arriva in Italia Shakespeare in Love. Sì, siamo per la prima volta in Italia, produzione del teatro Brancaccio e abbiamo debuttato quest'estate al festival shakespeariano di Verona e adesso abbiamo cominciato la tournée in tutta Italia. Facciamo a te introdurre un po' lo spettacolo per i pochi che non hanno visto questo film, per te Oscar, poi ne parleremo dopo. Ma qui troviamo William Shakespeare in crisi esistenziale, o meglio in crisi creativa. William non riesce a scrivere e allora una serie di vicissitudini tra cui in particolare l'amore lo aiuteranno in questa impresa. Vediamo un mondo che è quello del teatro elisabettiano dove proprio ricrea quello che potrebbe essere uno Shakespeare di finzione, è popolato da imprenditori pirateschi che si vendono le commedie l'uno con l'altro, se le rubano addirittura, duelli tra compagnie. Un giovane Shakespeare, che Shakespeare abbiamo? Che Shakespeare avete? Un giovane attore, poeta e scrittore che lotta duramente per diventare qualcuno, è in lotta con la sua vita professionale e con l'amore della sua vita. Sperimenta all'inizio dell'opera una crisi come scrittore devastante, finché improvvisamente incontra una nobile donna, Viola dell'Esseps, e vede improvvisamente la luce della vita. Grazie a questo riacquista la sua ispirazione e scriverà la più grande storia d'amore di tutti i tempi, Romeo e Giulietta. Lisa, tu hai un po' di personaggi, stasera ti fanno lavorare parecchio. L'ho proposto io stessa alla produzione, ho detto guardate il ruolo della regina è un cameo, e essendo un cameo se vi servisse che io faccia dell'altro io mi diverto, poi sono una trasformista, e quindi stasera mi vedrete. Nella rossa regina Elisabetta Prima nel fare il mio cameo è quello il mio ruolo, diciamo il mio ruolo. Poi per chi volesse guzzare la vista sono una bionda cortigiana e poi sono una mora meretrice, quello è il ruolo che preferisco di più.